Torna la vittoria alla Bucinese in casa dopo alcuni passi falsi. La partita però con il Quarrata, ultimo in classifica, è stata tutt'altro che facile. Formazione in emergenza, quella di Mister Simoni, preda di squalifiche ed infortuni. Dal primo minuto Babacar nel titrente centrale. A un inizio di partita un po' equilibrato, la prima occasione però è del Quarrata al diciassettesimo minuto, quando del prete si libera improvvisamente di due uomini. Il tiro da fuori sfiora il palo. Al ventiduesimo però la Bucinese trova il vantaggio. Beccatini riesce a crossare dalla sinistra dopo un rimpallo. Il cross è perfetto per Babacar che di testa insacca sul secondo palo. Da ora in poi però la Bucinese sparisce dal campo e il Quarrata diventa sempre più padrone del gioco. Al ventotesimo cross di Mangoni. Venturi stacca solo, la palla esce di poco. Al trentaquattresimo del prete cerca il tiro dal limite. Mugelli si allunga e manda in angolo. Al quarantesimo Giuntoli punta il fondo e crossa. Allegri anticipa Mugelli in uscita ma non riesce a deviare. Si va al riposo dopo un minuto di recupero. Nel secondo tempo la pressione del Quarrata si fa sempre più incessante. La Bucinese non riesce a uscire dalla sua trequarte difensiva. Al trentesimo un calcio di rigore per il Quarrata è ineccepibile per un fallo di mano in area di rigore. Marrani è entrato da poco calcia sulla traversa. Lo stesso Marrani però trova il pareggio per i suoi. Al trentatreesimo un bel cross dalla sinistra lo imbecca e di testa fulmina Mugelli. La Bucinese sembra arrancare e vuole mantenere il pareggio ma una sortita all'inizio del recupero la riporta in vantaggio. Punizione di Gazziano deviata. Un batte e ribatti in area innesca Pavani che in mezza rovesciata beffa tutti. 2 a 1. Dopo 5, quasi 6 minuti di recupero l'arbitro fisca la fine della partita. La Bucinese trova tre punti sofferti, diciamo pure immeritati, ma si rilancia in classifica per il Quarrata è notte fonda.